Per ogni stagione che finisce ce n'è una nuova che parte. È iniziato questa mattina il programma prestagionale di Coach Petrovic e della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro, che fino alla giornata di domani rimarrà in città per conoscersi ed effettuare le visite mediche previste. Nella giornata di mercoledì 18 agosto, oltre ai confermati Zanotti, Tambone, Drell e Capitano Delfino, partiranno per il training camp a Carpegna anche i nuovi acquisti. Saranno infatti presenti l'americano V. Sanford, guardia classe 1990, reduce da quattro stagioni in Francia, Gora Camara, centro del 2001 in prestito dalla Virtus Bologna, e i due brasiliani fortemente evoluti e allenati in nazionale dal coach della VL, ovvero Caio Paceco, playmaker del 1999 in arrivo dal campionato spagnolo, e Leonardo Demetrio, alla grande classe 94 acquistato dal Brasile dove difendeva i colori del Flamengo. Una VL che però parte per Carpegna incompleta, visto che all'appello manca ancora un pivot titolare su cui la società sta lavorando. Sarà assente per i primi dieci giorni di ritiro anche il neo acquisto Davide Moretti, che ha reso nota la sua positività al Covid-19 in un video postato sulla pagina Facebook della squadra. Ciao a tutti, sono Davide Moretti e voglio fare un saluto ai tifosi di Pesaro e dirvi quanto io sia felice di far parte di questa squadra. Non vedo l'ora di iniziare la stagione e spero di vedervi al palazzetto il più numerosi possibile. Inoltre ci tenevo a dirvi che purtroppo non sarò con i ragazzi all'inizio di questo raduno, perché di ritorno dagli Stati Uniti sono stato trovato positivo al Covid-19 e per fortuna sto bene, sto soltanto aspettando di finire i miei giorni di quarantena per poi raggiungere i ragazzi e iniziare questa stagione insieme. Un saluto e a presto! Il playmaker italiano classe 98 ufficializzato nel weekend sbarca a Pesaro con la formula del prestito annuale dall'Olimpia Milano e vestirà la maglia numero 7. Per quanto riguarda il calendario, i biancorossi dopo le prime settimane di training camp affronteranno una serie di amichevoli in attesa del primo impegno ufficiale in Supercoppa che avverrà sabato 18 settembre contro un avversario ancora da definire. L'esordio in campionato dei pesaresi è previsto invece per la settimana successiva. Il primo match che vedrà impegnata la Carpegna Prosciutto sarà a Sassari il 26 settembre mentre il rientro alla Vitri Frigo Arena è fissato per mercoledì 6 ottobre contro Trieste appuntamento per il quale si spera che i tifosi possano accompagnare la squadra all'interno del palazzetto.